come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così farete sempre aggiornati su tutte le prossime novità molto 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 perché in questo caso bisogna proprio dirlo molto e non sempre neanche dirvi se bene o male perché perché questo perché perché ieri sono iniziate appunto sono arrivate i primi accoglimenti delle domande dell'assegno di inclusione quindi diciamo che le domande sono passate da acquisita ad accolta però cosa succede che in tantissimi ma veramente in tantissimi anzi diciamo che il 90 per cento di voi mi ha scritto è ma la mia domanda è stata rispinta e allora perché succede questo perché intanto bisogna dire una cosa partiamo da questo fatto qua in se lavorerà tutte le domande che sono state inviate dal 18 di dicembre al 7 di gennaio pad sottoscritto entro la stessa data e questo lo sapevamo già perché avevo già detto anche ieri poi moltissime persone mi state anche dicendo è ma io sto contattando il centralino telefonico dell'inps e quello abbiamo già capito che loro non danno informazioni perché non si sa perché ma è quello che suppongo io e che ancora secondo me secondo me non hanno la banca dati collegata quindi loro non riescono probabilmente ancora ad accedere ai vostri dati perché non sono le anagrafiche diciamo delle domande non sono all'interno dei loro archivi non so come spiegarvi comunque in qualche modo secondo me non riescono ad accedere alla vostra domanda questo è quello che mi sono spiegato io quindi per adesso l'unico modo per sapere se la domanda ha cambiato stato è quella di entrare all'interno del fascicolo previdenziale tramite il sito internet per chi l'ha fatta in autonomia su internet mentre per tutti coloro che invece si sono rivolti un caff o un patronato bisogna chiamare il capo patronato perché loro avendo fatto la domanda riescono a dirvi tutto quanto poi dall'idea che mi sono fatto io la domanda viene respinta da come ho capito di quello che mi scrivete viene respinta cioè praticamente prima veniva accolta acquisita poi dopo accolta e poi adesso sta cambiando di nuovo stato no quindi da da accolta sta diventando respinta e però ci sono dei gruppi di omogenei quasi omogenei di persone a cui viene respinta la domanda e come vi ho detto io mi sono fatto un'idea e praticamente sono questi intanto ci sono tutti coloro che fanno parte di una famiglia con minori con disabili o con persone con più di 60 anni che non si sa perché ma in realtà questi erano i requisiti minimi per poter accedere all'assegno di inclusione poi un altro un'altra questione riguarda un messaggio che dice assenza di beneficiari nel nucleo e queste persone diciamo in teoria sono tutti coloro che sono stati presi in carico dai servizi sociali fino a dicembre perché percepivano rdc e quindi poi dopo sono stati presi in carico dai servizi sociali e anche questo in teoria doveva essere un altro requisito per continuare a prendere cioè in sostituzione di rdc prendere l'assegno di inclusione un altro motivo un altro motivo di rispingimento e che appare una scritta con scritta omessa dichiarazione attività lavorativa che in teoria riguarda tutte quelle persone che sono stati dei lavoratori quindi sono stati dei dipendenti e che quindi magari hanno dovuto compilare anche il modello com e anche costoso sono visti respingere la domanda un altro gruppo sono tutti gli ex percettori di rdc che hanno avuto il pagamento di rdc fino a dicembre e che ora sono visti bloccare bocciare la domanda e poi l'ultimo caso riguarda il superamento della soglia dell'isè di 9.360 euro a questo punto a questo punto siccome mi state dicendo che addirittura non riuscite neanche più seno che non riuscite cioè qualcuno ci riesce altri non ci riescono e poi comunque anche quando si riesce ad entrare praticamente alla domanda scompare prima risultava accolta poi si entra dentro videata vuota no cioè come se nessuno avesse mai presentato una domanda allora secondo me tutto questo succede perché mia idea è mia idea poi vai a capire esattamente comunque mia idea succede perché ci sono tantissime persone che si stanno collegando al sito internet e questo sito internet un bel momento sta impazzendo diciamo così e allora siccome che se vuoi non so faccio un esempio se voi entrate adesso e vi dice respinta poi dopo un po rientrate e sparisce perché probabilmente l'inps cosa sta facendo sta prendendo in mano le pratiche le sta lavorando tutte quante poi cambia fa tutti i suoi controlli caso vuole che voi entrate proprio in quel momento in cui sta facendo la lavorazione e quindi sembra tutto che che non funziona diciamo che è tutto rotto ecco la situazione comunque è variegata non c'è proprio una risposta esatta per tutti quanti è abbastanza complessa al momento rimane difficile dare una risposta precisa a tutti quanti perché ogni persona è un caso diverso sta di fatto sta di fatto che in se per la famiglia sul suo social network ha pubblicato un messaggio e allora vediamo un attimino e ci avvisa di questo e dice attenzione guardate che il cambio dello stato della pratica di adi potrà essere visibile nella giornata di oggi o domani solo coloro alla cui domanda è accolta riceveranno un messaggio un sms o un email o un messaggio all'interno del sisle comunque loro parlano tanto di sms e da domani potranno recarsi presto poste italiane per attivare l'apposita carta dice si precisa inoltre che essendo i controlli sulle dichiarazioni svolti preventivamente vedranno il cambio dello stato e riceveranno il pagamento dal 26 gennaio solo coloro per i quali l'accertamento si è già concluso con esito positivo restano invece in stato di lavorazione le domande il cui pad ecco attenzione il cui pad è stato sottoscritto dopo il 7 gennaio o i cui controlli presso le amministrazioni pubbliche sono ancora in corso probabilmente in queste tre righe c'è scritto un mondo intera non probabilmente in queste tre righe c'è scritto un mondo intero quindi attenzione a questo fatto restano in stato di lavorazione le domande il cui pad è stato sottoscritto dopo il 7 di gennaio o i cui controlli presso le amministrazioni pubbliche sono ancora in corso che quello che già vi dicevo prima quindi cosa vi dicevo prima che ci sono molte persone che per esempio erano state prese in carico dei servizi sociali e che quindi secondo me stanno ancora facendo questi doppi controlli ecco che come vi ho detto in queste tre righe c'è scritto tutto un mondo sta rifatto è che comunque da come c'è scritto in questo messaggio dell'inps le lavorazioni praticamente passeranno da acquisiti ad accolte o respinte nel caso in cui non ci siano i requisiti perché ho visto anche di gente che dice io ci ho provato a far domanda c'è in quel caso non ha neanche senso dare una risposta perché come dire io tento la fortuna tento il gioco dell'otto se uno se uno sa già di avere di non avere i requisiti inutile fare domanda e poi dire e me l'hanno respinta perché c'è stato anche persone che hanno fatto così no cioè tentiamo la fortuna e comunque le lavorazioni continueranno anche nella giornata di oggi che anche nella giornata di domani e questo messaggio comunque continua arriva dire che coloro tutti quelli che hanno riceveranno avranno la domanda accolta riceveranno poi un sms da parte dell'inps per andare a ritirare la carta direttamente imposta diciamo che questo video non era in programma oggi l'ho fatto più che altro perché moltissime persone mi state scrivere mi hanno scritto appunto è ma com'è che adesso da acquisita colta adesso viene respinta di quel di là allora non potevo stare a rispondere singolarmente a ognuno di voi perché avrei dovuto fare un messaggio copia e colla che poi non so se alla fine youtube me l'avrebbe fatto passare perché a forza di ripetere la stessa fare sto messaggio copia e colla a tutti quanti secondo me è quello avrebbe detto youtube avrebbe detto oh questo che stai facendo perché stai ripetendo la stessa cosa così di potersi spammare un messaggio ecco allora per evitare questo ho preferito fare un video così almeno diciamo lo possono vedere più persone senza dover fare sta ripetizione di messaggi poi come sempre sapete che vi tengo aggiornati man mano che cambiano le cose ve lo farò sapere con un nuovo un nuovo video a questo punto se i messaggi che dicevo saranno sempre diciamo ripetitivi mi chiedono tutti quanti la stessa cosa farò un nuovo video bene con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento a presto ciao